Tornano i furti di Catenina in discoteca. Questa volta a subirlo è stato un diciottenne in un locale di Marotta, mentre a perpetrare l'atto criminale sono stati tre giovani della provincia di Ancona, di età compresa fra i 19 e i 21 anni, uno dei quali di origine nigeriana. Tutti e tre sono stati denunciati in stato di libertà in seguito a un'operazione dei carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Fano, in collaborazione con i colleghi delle stazioni di Fano e di Mondolfo. I fatti risalgono alla notte dell'otto gennaio, quando il diciottenne, in discoteca in compagnia di amici, si sente spintonare e strappare la catenina in oro che aveva al collo. Voltatosi, alle sue spalle trovava il ventenne nigeriano a cui intimava di restituire il monile, ma per tutta risposta veniva spintonato con violenza e con la complicità di un coetaneo. Derubato, il giovane decideva di rivolgersi agli addetti alla sicurezza che allertavano subito i carabinieri. Sul posto i militari hanno acquisito le immagini di videosorveglianza, individuando i responsabili e ricostruendo il modus operandi dei tre giovani che agivano in sincrono in una combinazione di furto, fuga e minacce. I tre ragazzi sono stati individuati e portati in caserma. Su di loro gravavano già precedenti e ora dovranno rispondere di furto con strappo e minacce in concorso. Sono stati inoltre segnalati in questura per l'emissione di foglie di via obbligatorio con divieto di ritorno nella provincia di Pesaro Urbino per i prossimi tre anni.